Sanità molisana sempre di più nella bufera. Dopo le poderose reazioni dei diversi comitati e dei cittadini contro un sistema che ormai è allo sfascio, questa volta a prendere le distanze dall'operato del commissario Paolo Frattura è stato il sindaco di Isernia Luigi Brasiello, evidentemente stimolato da un servizio di Enzo Di Gaetano andato in onda su Telemolise. L'atteggiamento miope e distratto che il governo regionale ha riservato alla sanità del nostro territorio attraverso scelte quotidiane non condivisibili penalizza gli ospedali di Isernia e di Agnone, sempre di più depauperati in favore dei privati. E' questo il tono della nota inviata alla stampa sottoscritta dal sindaco, dal presidente del consiglio e da tutti i capigruppo di Palazzo San Francesco. La sanità in Molise non è più in grado di dare risposte adeguate alle esigenze di tutela della salute costituzionalmente garantite poiché non è stato attivato alcun intervento per ristrutturare il sistema né sono pervenuti segnali di discontinuità e proposte migliorative rispetto al passato. Dunque un giudizio senza appello, un attacco senza precedenti, il primo sferrato da Luigi Brasiello contro Paolo Frattura, considerato da tutti il suo sponsor politico. Intanto proprio il governatore appare sempre di più isolato, prigioniero di se stesso e delle tante bugie spacciate per verità come ad esempio questa. Durante la conferenza stampa ha dato un annuncio importante, lei revocherà il decreto di assegnazione di 60 posti letto a Salcito. No, io non ho detto questo, ho detto che revocherò il decreto 37 che prevede anche quella attribuzione ma lo revochiamo perché evidentemente non condividiamo alcune premesse. Da approfondimenti fatti con il nuovo direttore generale della salute riteniamo che il decreto 37 sia carente su più aspetti quindi provvederò tra oggi e domani alla revoca sperando che il subcommissario firmi o meglio ancora prenda visione e firmi per presa visione il decreto di revoca. Era il 30 dicembre del 2014 conferenza stampa di fine anno. Come è finita? Ad oggi il famigerato decreto 37 non è stato ancora revocato.